ha fatto un ulteriore salto di qualità cioè fatto un upgrade del della sua della sua strategia e ha detto cari signori se volete ancora il mio gas lo dovete e lo dovrete pagare in rubli cioè dovete andare direttamente sulla mia moneta in modo che io mi evito addirittura la scocciatura del doppio passaggio quindi ha obbligato gasprome compagnia cantante a rinegoziare per quanto unilateralmente a rinegoziare il patto il negozio giuridico subito giavazzi dall'italia non si sa a che titolo anche qui superando il parlamento superando ciò che è un po la bc democratico subito giavazzi ha detto a nome forse di draghi ah ma non se ne parla nemmeno questo ho detto ieri non se ne parla nemmeno noi continueremo a pagare in euro evidentemente aveva parlato il nome per conto di draghi perché oggi draghi si è rifiutato di accettare almeno a parole si è rifiutato di accettare la il diktat in un certo senso la proposta unilaterale la condizione unilaterale posta da putin e quindi praticamente noi oggi ci ritroviamo di fronte a un bivio perché perché il buon draghi ha detto noi non vogliamo noi non accettiamo la modifica unilaterale del contratto e non pagheremo in rubli c'è da fare un'altra considerazione però caro draghi se tu veramente pensi di andare avanti per questa strada prima o poi noi ti chiederemo ma tu stai governando per l'america o per gli italiani e ci arriveremo subito perché se draghi veramente dovesse andare avanti con questa posizione tra l'altro sostenuta dalle altre forze della maggioranza punto di domanda però se draghi dovesse andare avanti su questa strada la risposta di putin è già negli atti avviene con grano salis nel senso che il signor putin chiude i rubinetti e se chiude i rubinetti da un momento con l'altro quel 40 per cento di nostra dipendenza dal gas russo diventa dal 40 tum sabatte a zero abbiamo le riserve per impattare una cosa del genere in una situazione già difficile con una inflazione che è già di per sé pesante forse no e infatti la germania non non ha dato una risposta non ha fatto non ha commesso l'errore che ha commesso che ha commesso draghi si è ben guardata dal dal dire cosa farà e se proprio volete la mia io penso che la germania accetterà in qualche modo di pagare in rubli perché è conciato un po peggio di noi ha bisogno assoluto del gas russo allora se la germania andasse verso questa soluzione e quindi nel tal caso pensa agli interessi dei tedeschi all'economia tedesca dobbiamo fare una domanda dobbiamo porci una domanda interessante perché la germania accetta di pagare in rubli mentre draghi chiude a questa opzione forse perché a questo punto diventa facile automatica la risposta alla domanda che rivolgevo prima draghi non sta governando in nome per con negli interessi degli italiani sta governando negli interessi degli stati uniti d'america grazie grazie